TORINO! Siamo giunti, ci stiamo approcciando alla fine di questa magica serata. E vi vogliamo lasciare sotto il segno del sangue e della confusione. Perché questa è Blood and Confusion! È lapo. Siamo giunti, Noi, 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 Noi. La particolare della bautona è la vita, All'initi è la generale di prevenzare, All'inizio è la nostra voce di SottifizIA. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti